Si sono conclusi i lavori della Commissione Traffico di Palazzo Carafa sugli orari dei varchi aperti della ZTL che hanno visto coinvolti i rappresentanti delle associazioni di commercianti e residenti i quali hanno avanzato proposte e suggerimenti per arrivare ad una eventuale modifica. Soddisfatto per quanto emerso dal dibattito il Presidente della Commissione Traffico Luigi Quarta Colosso. È stato un bellissimo confronto tra maggioranza e minoranza e ascoltando tutti gli stakeholders e le persone interessate che vivono nel centro storico. Questo intanto era il nostro obiettivo, quello di creare un lavoro istruttorio che potesse essere d'aiuto all'amministrazione, al governo cittadino per prendere le decisioni. Un lavoro di confronto e di ascolto che ha visto impegnati anche i consiglieri di minoranza pronti a fornire indicazioni anche sulla scorta di quanto messo in atto dalla precedente amministrazione. È stato positivo ascoltare una pluralità di soggetti, di associazioni e per avere un orientamento tutto questo lavoro adesso dovrà andare alla valutazione del governo. La Commissione ha fatto un lavoro preparatorio, istruttorio, secondo me anche positivo di ascolto. Adesso la decisione finale deve essere assunta dalla Giunta e da una ordinanza del Sindaco. Nei prossimi giorni sarà attivato un tavolo di maggioranza al fine di intervenire sulla modifica degli orari e successivamente procedere ad avviare un lavoro di modifica del regolamento ZTL. Con femmina